L'indiscrezione è stata raccolta dal settimanale Chi in edicola questa settimana. Cristina Del Basso e Francesca Cipriani, insieme con Lucio Paolo De Rose, sono state inviate dagli autori di Domenica 5 a girare uno sketch per la loro rubrica settimanale Va a lavorà sul lago di Como. Il compito delle ragazze era pescare. Cristina si è rivolta così al gruppo di pescatori professionisti che aspettavano le due ex del grande fratello. Tranquilli, con me la barca non affonda, sono una sifirite, alla faccia di tutte le silfidi del mondo antico.